Mi dica il nome del cognome, tutte le generalità, la residenza, abbia pazienza, si sega un attimo qua. Vuole qualcosa? Un sorso d'acqua? Ritrovi lucidità. Riprenda fiato e pensi bene a ogni parola che dirà. Da quanto tempo e quanti figli? Lui che lavoro fa? Spesso ubriaco, certo, è un dettaglio, ma che rilievo non ha. E perché adesso, quando ha deciso, perdoni la curiosità? Ha testimoni o è qui da sola? Certa di dire la verità? Certa di dire la verità? Il nome dell'amore e della forza che mi ha portata fin qua. Il nome del coraggio di questa storia che più confine non ha. Il nome della ragione e di ogni angolo di libertà. Il nome di ogni donna che ancora grida e ancora griderà. Mi creda per carità. Mi dica il fatto ed il contesto con più serenità. Descriva meglio, scusi se insisto, serve puntualità. Mi mostri pure le prove e i segni e la formalità. Che cosa intende lei per abusi? E quanti altri libri ha? Il nome dell'amore e della forza che mi ha spinta fin qua. Il nome del coraggio e di questa storia che più confine non ha. Il nome di un diritto e di ogni briciolo di libertà. Il nome di ogni donna che ancora nasce e ancora nascerà. Mi aiuti per carità. e di ogni donna che ancora nascerà. Il nome della ragione e di ogni angolo di libertà. Il nome di ogni donna che ancora vive e ancora che la vita vorrà. Mi escolti per carità. Edottorio il mio cuore.